Benissimo, benvenuti, eccoci stasera, riaffronteremo i temi che abbiamo sviluppato durante la prima lezione, il primo incontro, sui musei virtuali, fatte il 10 giugno 2013. Quindi ne approfittiamo per fare un video per coloro che non sono riusciti a partecipare e per quelli che magari pur avendo partecipato vorrebbero avere una traccia un pochino più concreta. Quindi vedete qui l'ambientazione in cui abbiamo un po' questo simbolo di questi musei virtuali che ci accompagnerà anche in altri mondi virtuali e in particolare andiamo a esplorare questo giver che vediamo qua, questo giver che nel momento in cui lo clicchiamo praticamente ci dà comunque il suo contenuto. Quindi materiale lezione musei del 10 giugno 2013, se io lo clicco mi viene fornita un folder virtualmuseumskit1giver e io lo accetto. Notate che già questo oggetto sta usando alcuni degli script fondamentali che andremo a spiegare stasera. Allora quindi al suo interno apriamo il contenuto, vedete che ci sono una serie di oggetti e li andiamo a descrivere uno per ciascuno e in particolare c'è un paio di script tra quelli componenti che esploreremo con calma. Però prima di vedere questi script applicati andiamo a vedere nell'ordine, vedremo che ci sono gli ll set text. Allora ll set text è un oggettino qua che rezziamo e vedete che qui c'è una scritta sopra un oggetto, quindi è possibile scrivere sopra un oggetto con un determinato colore. Qui il trucco, è quello che ho spiegato, è riuscire a modificare la scritta sopra l'oggetto evitando di dover cambiare lo script, perché qui c'è uno script, vedete che c'è uno script che inizia con l' underscore, si chiama ll set text e poi c'è l' underscore chiocciola, dove underscore e chiocciola sono i due caratterini che vengono usati nella descrizione per indicare praticamente cosa deve essere scritto sull'oggetto. Qui noi andiamo sulla descrizione, vedete che qui c'è scritto ll set text underscore, vedete che qui compare ll set text underscore, sta per a capo, per visualizzare a capo scritte fluttuanti. Quindi se io qui volessi scrivere una cosa diversa, basta che lo scrivo qua. Quindi cosa faccio? Modifico tutta la scritta fino alla chiocciolina, la chiocciolina si comporta come un separatore e qui scrivo, scrivo underscore qualcosa, underscore da far vedere. Allora a questo punto vedete che l'oggetto non è cambiato. Allora per far cambiare la scritta all'oggetto occorre fare il reset dell'oggetto. Questo lo si può fare in moltissimi modi. Uno dei più semplici è quello di andare sempre nel contenuto, di cliccare sullo script e aprire lo script con doppio clic e di solito trovo un reset. Allora facendo il reset viene fatto il reset dello script e vedete che ha effetto. Poi un altro modo per fare lo script per resettare è quello, in alcuni viewer, proprio di fare il reset script dal contenuto. Questo è ancora più semplice. Devo ovviamente avere diritto in modifica lo script e soprattutto, adesso per vedere il funzionamento, gli mettiamo una modifica. Quindi in particolare per esempio cambiamo il colore. Vedete che la chioccia la separa i campi. Quindi qui nella descrizione 1, 1, 1, vuol dire rosso, verde e blu. Se vogliamo che la scritta sia in blu mettiamo a 1, cioè 100%, solo l'ultimo numerello. Ok? Poi andiamo qua e facciamo reset scripts. Allora qui mi dice se è sicuro di voler fare reset e vedete che in questo modo ho cambiato il colore dello script. Un altro modo ancora che si ha spesso è andare poi in alto, contenuto o build diciamo build tipicamente scripts e poi qui c'è reset script. Ora reset a volte lo chiamano anche ripristina, quindi non è traduzione italiana. Quindi noi possiamo anche cambiare, e quindi mettiamoci magari un numerello 1 no, quindi lo riscriviamo. Quindi facciamo pippo, pluto, poi mettiamo la chiocciolina, chiocciolina che si fa con alta gr e la ho accentata sulle tastiere italiane, se non riuscite a farlo, comunque se sapete scrivere delle email non dovreste fare problemi. E poi mettete il colore con cui volete, quindi se voglio in rosso facciamo 100% e ricordate di mettere questa tripletta con le specie di parentesi minore e maggiore. Quindi tab, e a questo punto posso fare il secondo sistema, quindi seleziono l'oggetto, posso selezionarne anche n di oggetti e poi dalla finestra di costruzione, scripts, faccio reset o ripristina oggetti. Mi chiede conferma e poi vedete pippo, pluto e quindi siamo riusciti a intestare un oggetto con una scritta fluttuante. E' possibile anche mettere un ulteriore parametro con la chiocciolina che possiamo scrivere 0.1, ad esempio. Questo indica la fievolezza della scritta per ridurre l'impatto visivo. E qui possiamo di nuovo fare build, script, reset script, ok. E vedete che la scritta è diventata molto più fievole a 0.1. In realtà 0.1 è veramente poco, quindi tipicamente non si mette 0.1, però possiamo mettere come, mettiamo 0.5 che forse è un pochino più consistente, questa volta facciamo un reset da qua, vabbè, diciamo di non chiedermelo più. Ok, vedete che in questo modo posso farlo in questo modo per ottenere la scritta più fievole che dà quindi un inquinamento visivo un pochino meno forte. Se per caso nella scritta che volete fare, volete far comparire delle chiocciole degli underscore, visto che hanno un significato particolare, dovete scegliere degli altri caratteri. E ad esempio se volete che al posto del underscore volete usare, ad esempio, il più. E al posto della chiocciola volete usare, ad esempio, il, mettiamo il, che ne so, mettiamo le commerciale. Ok, allora a questo punto se facciamo il reset degli script, dobbiamo però cambiare la modalità, quindi vi ho detto che abbiamo scelto il più e l'e-commerciale, e quindi qui dobbiamo mettere più per separare, più, e quindi vuol dire che qui siamo liberi di usare l'underscore Pippo 1 Pluto. Al posto della chiocciola mettiamo l'e-commerciale, che abbiamo scelto. E-commerciale, e a questo punto possiamo usare anche delle chiocciole qua. Quindi chiocciola, e quindi a questo punto vedremo scritto Pippo underscore 1, a capo Pluto chiocciola, e poi qui ci sarà il colore, e poi ci sarà 0,5, magari rimettiamo 1. Qui l'1 è sottinteso, quindi possiamo anche non metterlo, per dire, e qua se non mettiamo lui intende che vogliamo la massima. Facciamo il reset, e vedete che abbiamo ottenuto la possibilità di visualizzare anche quei caratteri che prima c'erano negati. Quindi diciamo, questo è lo script, e queste sono le convenzioni che possiamo usare per scrivere qualcosa sopra a qualunque oggetto. Lo script lo trovate sempre in questo oggetto, in questo distributore, e quindi questa è la prima cosa. Andiamo avanti. Allora, durante la lezione, quindi facciamo un bel delete di questo oggetto, e andiamo a prendere nella cartella che ci è arrivata, quindi nel Recent Items, avevamo Virtual Museum Kit 1 Giver, vedete che avevamo, oltre all'LL7 Text, abbiamo LL7 Text Temp. Allora, questa qui è una variante dell'LL7 Text, quindi questa, che fa comparire la scritta soltanto quando clicchiamo. Quindi andiamo soltanto a vedere nelle proprietà, qui c'è scritto LL7 Text Underscore per visualizzare scritte fluttuanti, quindi sta usando lo standard di prima, dentro c'è un LL7 Text Temp con gli soliti caratterini, qui quello che succede è che comparirà la scritta solo quando io clicco, vedete, e la scritta rimane presente soltanto per un tempo, che dovrebbe essere attorno ai 10 secondi. Passato questo tempo, la scritta sparisce, quindi questo è un modo per avere delle scritte su un oggetto, senza creare inquinamento visivo. Questo, tra l'altro, è stato suggerito da Rubin Maio durante la prima lezione, quindi l'ho inserito con il suo consenso. Ok, allora andiamo a vedere altre cose di questo kit. Allora, abbiamo visto due parti, andiamo avanti, abbiamo, ma dunque andiamo sul, come vi ho visto L7 Text, e vediamo LLGiver, ad esempio, LLGiver, questo qui è uno script, che dentro, quindi questo, se andiamo a vedere dentro, c'è un LL7 Text, esattamente come prima, quindi possiamo far scrivere qualcosa sopra l'oggetto. In più, al momento in cui lo tocco, questo dà il primo oggetto che c'è, quindi in questo caso, io ho messo, copiato dentro, il contenuto dell'inventory, una note card, questa qua, questa note card viene consegnata a chi clicca, quindi cosa succede? Che io posso cliccare questo oggetto, e vedete che mi viene consegnata la note card, che io posso accettare o rifiutare. Teoria qui funziona con qualunque, qui mi dice che ho rifiutato, ok? Se io al posto, se io non volessi dare una note card, ma volessi dare un'altra cosa, cancello l'oggetto che voglio dare, cioè la note card precedente, e gli metto, ad esempio, ma vediamo anche vasi romani questi, vasi romani, che mi hanno dato recentemente, quindi nel momento in cui io clicco, mi viene dato vasi romani per Salazar, e quindi accept, e me lo trovo nell'inventory. Quindi, vedete, questo è un giver, che dà un oggetto, una note card, o un abito, o una maglietta, quello che è, e lo dà grazie a questo script, che si chiama llgiver, e inoltre, però, c'ha anche lo script di prima, che era l'llset text. Ok. Quindi adesso, togliamo questo script, e andiamo avanti con lo script successivo. Dopo llgiver normale, abbiamo la possibilità di dare un folder, una cartella, quindi se voi dovete dare più di un elemento, alle persone, più di una note card, un insieme composto da una note card, da un oggetto, da un abito, eccetera, e conviene di dare a chi clicca, però facendo in modo tale che compaia in una cartella. Ecco che allora abbiamo l'llgiver list, eccolo qua. Allora, questo oggetto, tasto destro, edit, vediamo il contenuto, vedete che c'è ancora llset text, per poter visualizzare il titolo, anzi, in realtà, la descrizione che sta sotto, quindi con le underscore, eccetera, a questo punto, se io lo clicco, mi darà una cartella, il cui nome, esattamente, invece, il nome che c'è scritto sopra, e il contenuto saranno tutto ciò, che c'è dentro l'inventory, tutti gli oggetti, che non hanno un underscore in testa. Questo è importante perché così riesco a distribuire senza degli script che possono confondere. Quindi, adesso io qui ho messo due note card, però volendo posso mettere anche una texture, quindi andiamo a cercarsi una texture, una texture, andiamo, ecco, vedete, vogliamo dare anche la texture di virtual museums. Perfetto, quindi uno, due, tre. L'importante è che non abbiano l'underscore in testa. A questo punto, quello che succede, è che se io clicco su questo giver, mi viene detto, attenzione, ti ho dato questa cartella, che si chiama kit numero uno, ll giver list, e che è il titolo dell'oggetto, quindi le persone sanno, che facendo accept, possono andare sul loro inventory, contro lì, e trovarsi, nelle liste dei recent items, recent items, mettiamo pure all types, qui trovano sicuramente kit numero uno, e le giver list, dove vedete sono state date le due note card, e in più è stata data anche la texture, quindi la gente si può vedere, a disposizione questi materiali. Notate che quando fate i giver, dovete sempre, devono sempre avere il diritto di copia, almeno, vostro almeno, e poi di transfer, perché se voi non li potete copiare, una volta datone uno, non potete darne altri, e se non ha il diritto di transfer, non potete ovviamente trasferirli, o dare ad altri, quindi questo LL giver list, è utilissimo per gli insegnanti, per dare materiale delle lezioni, e quant'altro, quindi è preziosissimo. Poi andiamo avanti, allora, abbiamo visto LL giver, LL giver list, dialog, text, LL set, temp, andiamo a vedere invece, un altro modo, per presentare delle informazioni, questo qui è il, ah no, LL non l'abbiamo visto, vediamo più tardi, LL load url, permette di andare su una url predefinita, quindi c'è aprire una pagina web, quindi lo realizziamo, vedete che al solito, se lo apriamo, c'è LL set text, perché mi è conveniente vedere queste cose, poi tra l'altro, una cosa che vi faccio poi vedere, magari lo metto anche in questo oggetto, è uno script che permette di cancellare, tutte le proprietà di un oggetto, quindi caso mai voi non voleste il titolo sopra, avete bisogno di un cleaner, e adesso poi magari lo mettiamo, allora, dunque qui abbiamo LL load url, e anche qua underscore chiocciola, hanno un significato simile a sopra, e qui in pratica, qual è il sito dove si andrà, vedete che dobbiamo mettere, le stesse cose di prima, quindi le cose da visualizzare, poi dopo il primo chiocciolo ci sarebbe il colore, se non lo metto prende bianco, dopo la seconda chiocciola c'è l'intensità, quindi se non lo mettiamo è il massimo possibile, e poi c'è il sito dove vogliamo ridiriggere la gente, quindi se noi qui gli mettiamo ad esempio, che ne so, http.slash slash, e gli mettiamo news.google.it, ok, allora adesso quello che succede, se tutto è andato bene, è che facendo il click, ah no, dobbiamo fare sempre il reset, ricordiamoci sempre, sto ben detto il reset, allora si poteva anche fare che fare il reset automaticamente, ma in questo modo in realtà riusciamo a essere più flessibili, quindi facciamo il reset script, viene fatto il reset di tutto, e quindi a questo punto vedete che cliccando si fa sul news.google.it, quindi apre proprio la pagina web, o a seconda delle preferenze, perché se volete che si apra internamente, dovete insegnare alle vostre utenti ad andare sulle preferenze, adesso vediamo un attimo se riusciamo a trovarle, comunque in mezzo a queste preferenze, c'è anche la possibilità, non mi ricordo mai dove è advanced, no, user interface, comunque c'è un posto, poi magari l'ho, dove si può, si può impostare praticamente, dove, quale pezzo si apre, probabilmente si può accedere anche da questi menu, va bene, comunque il sito web, l'abbiamo visto, cancelliamo anche questa cosa qua, andiamo sempre nel nostro oggetto, abbiamo visto che ci mancano l'appello, lldialogtest, allora lldialogtest, è simile all'ls text, caso mai me lo rizzasse, ecco, l'ho rizzato, allora qui, quello che succede, è che lui prende, la descrizione, il dialogo che c'è qua, e lo visualizza, anziché come text, quindi in realtà, qui avrei potuto, togliere l'llset text, però succede che, se io lo clicco, il contenuto, questo dialogo, per visualizzare i contenuti, mi compare come opzione in alto a destra, quindi anche più visibile da vedere, ok, e questo è il, è il nostro, dialogtest, poi abbiamo il nostro, dove lo vediamo, qua pop up, questo è un modo anche di rappresentare i contenuti, questo qui è un pannello scomparsa, pop up, questo succede che, quando lo clicco, fa comparire sopra un pannello, questo pannello, può essere letto, per un periodo di tempo, che dura circa 10 secondi, quando mi sono stufato, va via da solo dopo 10 secondi, oppure lo clicco, per farlo sparire, qua, per farlo, se volete farlo voi, dovete ovviamente, vedete che se faccio edit, è composto da due oggetti, e quindi dovete andare, in edit linked, andate sul pannello di sopra, sulla texture, quindi per far vedere la vostra texture, dovete cliccare qua, e metterne un'altra, quindi se volete mettere, ad esempio, questa texture, che è un'Italia trasparente, ok, modificata, e poi a questo punto, facendo clicca, vedete che compare, l'Italia trasparente, attenzione che questa non è, una particella, e quindi, è abbastanza, comoda, perché le particelle, non sempre la gente li vedono, comunque, l'effetto è abbastanza buono, ora, prima, vi avevo promesso, che vi avrei dato, anche uno script, quindi creiamo, tutti i diritti, ce li abbiamo, andiamo, dunque, gli mettiamo, un script di clean, che non sarà questo, quindi sarà, clear, reset, remove, allora mi sembra che fosse cleaner, neanche, che, quindi, che, 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 Grazie a tutti.